Sarà una gara importante da vincere, sicuramente. È sempre diverso quando giochi in trasferta, quindi vediamo cosa succederà, se andrà bene o no. Non guardo e non mi interessa la mia classifica come il miglior muro del campionato. La prima cosa è che la squadra vinca, se poi dovesse arrivare il primato di miglior muro in una stagione. Sarei comunque davvero felice. Se giochiamo come in queste ultime gare, credo che abbiamo tutte le possibilità di fare bene, di accedere ai play-off e poi, chissà, anche di puntare più in alto. Grazie.